In Abruzzo sono 1.254 le emissioni in ruolo di docenti per il prossimo anno scolastico, ad annunciarlo il Ministero delle Economie e delle Finanze che ha fornito al Ministero dell'Istruzione la relativa autorizzazione. I questi 283 riguardano la provincia di Teramo, una condizione su cui la FLC-CGL di Teramo è tornata a sottolineare che per garantire la frequenza in classe, in presenza e in sicurezza è necessaria l'assegnazione alle scuole per tutto il prossimo anno scolastico di un contingente di organico aggiuntivo e l'individuazione di modalità di reclutamento rapida e chiare dal punto di vista normativo per la copertura di tutti i posti che anche quest'anno saranno affidati a tanti docenti precari. Purtroppo anche quest'anno riprenderemo l'anno scolastico con tanti posti vacanti purtroppo. È vero che le emissioni in ruolo, cioè c'è stata l'autorizzazione da parte del MEF di 94.130 docenti per l'anno scolastico 2022-2023 per tutta l'Italia. In Abruzzo nello specifico sono previsti 1.254 posti, ovviamente parliamo di posti dall'infanzia a finire alla secondaria di secondo grado. Nella provincia di Teramo abbiamo all'incirca 283 posti tra posti comuni e posti del sostegno. In realtà questi numeri se li confrontiamo con altre regioni non sono, apparentemente potrebbero sembrare tanti, ma in realtà non lo sono. Il sindacato inoltre evidenzia che nonostante il riacutizzarsi della pandemia e la presenza nelle scuole della provincia di numerosi bambini ucraini non è previsto alcun organico aggiuntivo, sia di docenti che di personale ATA. Ovviamente noi pensavamo che ci fosse un aumento di organico, noi abbiamo sempre chiesto l'aumento di organico sia per la pandemia sia per questa emergenza guerra, però di fatto un aumento di organico non è previsto, quindi è un problema grande, un problema enorme che ci ritorneremo ad affrontare anche quest'anno all'inizio dell'anno.